Buona giornata, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Code a tratti sul A1, siamo tra Firenze Scandicci e il BV A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Rallentamenti anche sulla strada di grande comunicazione sulla FIPILI tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci, traffico intenso in direzione Firenze. Prudenza per un incidente sempre sulla strada di grande comunicazione tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Est, anche qui in direzione Firenze. Sulla 12 lavori personale su strada tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, la direzione quella per Livorno. Veniamo ai treni, il 19465 Livorno-Piombino è stato cancellato da Campiglia a Piombino, il 19450 Piombino-Pisa cancellato da Piombino a Campiglia. Guidate con prudenza, per il momento è tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.